Prima di iniziare col video vi volevo dire che la serie WandaVision, che è della Marvel, è finito. Quindi se alcuni di voi vi piace, non vi spoilerò niente, guardatevi l'intera serie perché vi dico il numero degli episodi. Cioè, ci sono 9 episodi, quindi non vi voglio spoilerare il finale, scopritelo da soli. Ok, come avete già visto dal titolo, oggi vi scopriremo chi è il Big Ladro della Big Vanilla. No, non è che io partecipo alla Big Vanilla, perché non lo sapesse? La Big Vanilla è una valilla dove ci sono tutti i youtubers, tranne Gabby, che era dell'isola dei youtubers. Quindi alcuni dell'isola dei youtubers non ci sono più. Quindi il Big... Come il Big? Allora, tutti dicono che questo ad esempio che si chiama Belfaccino, dice che il Big Ladro è Everald. Come vedete? Mettiamo un aperto volume. Ok, ho messo volume 68. Vabbè, saltiamo sta scena perché... Perché proprio c'è il Big Ladro. Questo ad esempio, che si chiama Belfaccino, dice che il Big Ladro è Emerald. E come fa Emerald a entrare nella Big Vanilla? Spiegatemi questo. Steph e Fere non hanno dato l'accesso a Emerald, ma se lo facessero lo farebbero comunque. Steph e Fere, Kendall, tutti i youtubers. Se state vedendo questo video è per vedere chi è il Big Ladro. Tutti dicono che il Big Ladro può essere o Kendall, o Mark, oppure Sbrizer. Ma che noia non può essere, perché lei non ha rubato niente. Quindi, dovete scoprire chi è il Big Ladro. Perché, come sapete, qua troviamo il canale del Big Ladro. Qui, qui dove c'è... Qui, questo è... Non sappiamo la certezza se è proprio il Big Ladro, perché lui adesso ha 100.000 iscritti. Sono il Ladro della Big Vanilla, rubo a marci. Però mi sorge un dubbio. Come fa ad avere i cuori dell'hardcore? Ed avere la skin di Kendall? Lui cerca di mettere... Di incolpare Kendall, perché appunto... Kendall, lo sappiamo tutti, che è innocente. Perché, se lo sarebbe, avrebbe... L'avrebbe messo in un bunker segreto. Però, come vedete, guardiamo questo video. Che, come vedete, c'è scritto rubo a marci. E ci aveva una corda. E, come sapete, gli altri youtuber... Ci hanno visto il video dove c'era la corda. Dove lui ci aveva una corda. E, con questo, ha rubato tutti gli animali della Big Vanilla. Dove, appunto, loro sanno... Che, forse, loro non lo sanno. Dove l'hanno nascosto? Ecco, l'ha tagliato. Per non farlo vedere agli altri. Nel suo bunker segreto. Però, siamo la certezza che è vicino alla Big Vanilla. E che, come vedete, ha rapito Coco! Colui che parla! Come vedete, questi sono tutti gli animali degli youtuber. E sapete chi è colui che parla, vero? Guardate. Vanda la panda, che è la panda di Kenoya. E, come vedete, vi dirò a tutti gli youtuber. Questo, Linky, che è di Marci, la pecora rosa. Cocoa è... Non so se è il cane di Ilbuddy, o... Non lo so. È il cane di qualche youtuber. Che non so se è Ilbuddy, però... So chi è colui che parla. È di colui che osserva, cioè Kendall. Che tutti sospettano su di lui. È Vanda la panda, che è di Kenoya. Sì, è di Kenoya. Quindi, mi raccomando. E anche, comunque, ragazzi, nella mia... Parlando di ladri, mi stava per entrare una ladra in casa mia. Però, per fortuna, non ha rubato niente. Nella vita reale, non in Minecraft. E anche... Non ha rubato niente, per fortuna. E tutti gli altri youtuber, nelle schede dei... Nel loro video, ci hanno messo... Mark! Ci ha messo un lui tutto nero. Più nero di Buddy. Con gli occhi blu. E il Buddy... Come sapete, scriviamo il Buddy. Big Ladro Buddy. Come vedete... Lui l'ha fatto così. Sì, l'ha fatto proprio così. Mentre Kenoya e Steph e Fere hanno messo... Quello originale. Quello con la felpa. Chi è il ladro della Big Vanilla? I'm a Red. Chi è? C'è un ladro. Ma chi è? Come sapete... Perché... Ecco, lui incastra altre persone, come vi dicevo. Qui invece ha incastrato Kendall. Sappiamo che la sua base può un bosco di betulla. Sappiamo inoltre che ha l'Optifine, infatti, i vetri. Ma come gli orami che sanno le lacche del mondo in hardcore. Di bella faccia. Ma alla fine l'unico senza l'Optifine è Lorenzist. Devevi sapere cosa ne pensate voi. Allora, qui lui dice che forse potrebbe essere Lorenzist. Perché è il pinguino. Qui Sbreser ce l'ha messo così il Big Ladro. Perché, come sapete... Tutti cambiano il Big Ladro. Quindi, ragazzi, abbiamo la certezza che potrebbe essere... O Mark, però... O è Lorenzist, o è Mark, o... Vabbè, non sappiamo la certezza. Però non sappiamo se è Emerald, perché lui non può entrare nella Big Vanilla. Cioè, come può fare un hacker... Cioè, ok. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Che forse potrebbe essere... Appunto, se state vedendo uno degli YouTuber, scrivetevi nei commenti, nelle discussioni sul computer, come sapete. Guardate. E iscrivetevi anche al mio canale. Aspettate. Visto che avete il computer, voi YouTuber, potete iscrivermi qui. Allora, qui c'è il mio canale. Prima di mettere qui discussione, e lei mi ha scritto Ben Giallus, Junxy, è qui. Qui, YouTuber, potete iscrivermi, se volete. Quindi, mi raccomando, fatelo, se ne pensate. Magari è Lorenzist. Però non abbiamo la certezza, quindi chiudo il video. Ciao, ragazzi.